l'artista italiana junior, la campionessa italiana assoluta, la campionessa italiana Indore Juniors, Fiamme Oropadova, da Quarto Sant'Elena, Dalia Caddari Miglior tempo in batteria per lei, 24 e 27, in assoluta tranquillità, bene anche Chiara Gherardi e bella partenza per Gherardi e Visentin sull'esterno di Dalia Caddari che si trova a rincorrere ma adesso rientra sulla Gherardi, Caddari, Gherardi e Visentin, Dalia Caddari nettamente davanti la ragazza delle Fiamme Oropadova, mentre la Visentin e la Ricci rimontano per le medaglie 23 e 46, ancora velocissima Dalia Caddari 69 centesimi, Wisp Atletica Siena, Linda Moscatelli prima 59 e 98, team Atletica Marche, Angelica Gherco questa ragazza ha fatto parlare di sé in tutte le categorie giovanili, ho l'impressione che ne sentiremo parlare ancora per degli anni brava Dalia, campionessa d'Italia, Juni Ores sorriso riconoscibilissimo per lei che si diletta anche a fare la modella tra l'altro ha prestato il suo sorriso grazie a tutti